Buongiorno a tutti, in qualche modo. Io vi ho avuto la nuova pagina di oggi. Grazie. Io sono l'autorina per cui mi parla, il nome è Margaret Misser. E' molto interessante il libro, parlo per una grande parte di oggi. E' molto interessante, nel senso che si dice che in un tempo gli uomini pensano che si può mangiare tra spontanei, tra liberi. Ma se vi pensano che vi mangiano 100 ritori, ciò non è possibile. Se vi pensano che ciò non significa che i ritori sono così molto, che non compreste che ciò non è possibile. E' una delle cose del rito, che i ritori sono sempre accettati. E' parte di voi, e non sono parte di questo gruppo. La cosa è che i ritori sono molto spiegati. Perché in questo caso la pandemia crea molte spiegazioni. E' un esempio, mi ha avuto, che in un tempo ho pensato per iunulli, e non è possibile andare a ritori e mangi soli. E' un tempo, se vi prendere a ritori, come vi poteteci con iu alia, ma non è normale mangi soli. Au homoi sercias homo porire ristorazio in terrete. Estas la tia nomata Daz, che o estas amico, sed amico trovata in terrete, por fare ioncune, chiede esempio mangi cune, voyagi cune. Vi ne devas esti tre intimai amicoi o geamicoi, cioè povas esti viro e vidi noi negravas. Sed vi faras ioncune, esempli universitatà, noi trovas vandazzo in terrete che iras al mangio dell'universitato por mangi cune, io si nida. Buon volo Ahmad, la venonta l'unbildo. Che ossigni fas che ni parolas per ritoi? Ritoi est a sistema di regoloi. Uno est afero che un ni faras cune, ritoi non faras cutime cune, ogni pova savi se è proprio in persona i ritoi, sed cutime non faras in cune. Cattio, i jas mangi, né natura fenomeno non, non c'è anche cultura fenomeno. Dove, se sgrava è la speciale, i tempi, i loci, chiun vi usa, o ci mangio bastonetto, ci forco, la decorazione, la parte ailo, la sinseco, dove in cini o ogni, est a siu sinseco anche in cini o, se cutime ciui platoi alvenas prima il pli cune, ne vera tutte cune, ad esempio, la frutto e cutime alvenas si è la fino, se vi est as en, en genzid ceremonio, vi ne povas tui comenti mangi, vi devas attendi l'alien, sed vi povas comenti mangi nudeloi, cer ili est as longai, ca ili signifas longam vivo, ti almeno en cui mi, mine si asiu in la tuta cini o. to est as iu sinseco anche o in cini o, pli multe en Europa, cer ne deciam, sed de deciam estis, on i comensis usi la tiel nomata rusan sistemon, est as sinseco de mangiagioi, sed anca o an taue, anca la pacienteso, anca la epoca della romeanoi, iam estis sinseco, che ne parolus put io anche. l'imigitae movoi, esempio, nene povas montriium per mangi bastonettoi, ca e ccpita bua estis montriium per trancilo, cio ne, o per forco. Ca i tuoi ciui ritoi portas al comune identezzo, do, ahmad, la venonta mi petas. Ah, yes, tanco. Toti o ci estis la, en la sinseco de la mangiagioi della romeanoi, on i usis ti un giro, che o estis usata anca o nun, por signifi la tuton, a bovo usquet mala. Mi usas la, 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 la cattolica prononzo, pardono. Stamen, la signifo estis, della ovo gis la pomo, car romeanoi comenzis mangi della ovo, cai finis con la pomo. Do, en italiio, se vi diras la port, la, la esprimo, essere alla frutta, cio signifas, vi estas, iela fructo, cio signifas, che, vere, vi estas e malfasila situazio, cai viiam forusis ciuim vii rimedui, ca iam estis alla bere bere lasta rimedo, cio di povas usi, cai ali maniera estis catastrofa. Tio ciar, la, la, la mangio in romea periodo finigis per pomo, tu, per per frutto. Do, la venonta mi petas. Si, cio di povas montri la venonta, coran danko. Do, por esempio de, de, cutima sin secuo, vi dono salvi l'exemplon de cion vi faros se vi iros al itala pizzeio. Do, vizias, che pizza estas, pizzo estas tipa mangiagio d'Italio, quankam ni stelis gin de la Cinoi, bre, Marco Polo mancis pizzo, cai metis la tomaton de la, el'Americo, do, el tie venas la tipa itala mangiagio, pizzo. La play fama pizzo estas pizza margherita, cai, se vi, iom regardast iom bildon, vi povas compreni iom pre la coloro, pre la coloro, della coloro vi povas imagi iom pre chio temast, di pizza margherita. cutime se vi iras al pizzeio, un ue vi, vi mendas pizza, cai pizza margherita cutime estas la unua pizza en la menuo, ne ciam, che el foie, povas est iu alia, se ne la unua, la dua almeno, set, play ofte la unua pizza che vi trovos en la menuo, ca gi estes la tradizia. Vi vidas de la coloro, che la coloro estes la itala flago, verda, blanca, cai ruga, cai pizza estas prezippe fama en Napolo, multe Napolo estas urbo in su de Italia, cai homo de Napolo estas tre sagai, tre rusai anca. Do, ciam Napolo igis parto de Italia, post la conchero de generalo Garibaldi, la de Cnau e Arcento, la, io, Napoletano, noi voli smontri al, al regia famiglio del nord Italia, Savoia, chi concheri i silini, che i li tre giois esti italiani. Do, io, pizzo faristo, faristi un pizza, pizza Margherita, cu la coloro e della itala flago, che la noma Margherita, esas nomo della regina de Italia. Do, esas pute, istoria pizza. Do, vi povas men di pizzo, cai, la venonta buon volo, Ahmad. Ca cia, charla, itala pizzo, ne bisogna subisce multe da tempo, por cui regin, intertempe, chio vi povas mangi. Sur la tablo, vi trovos, la tiel dirita i grissini, io estes pan bastonetoi, cai, tiui pan bastonetoi, estes tre maldicai, facte, se vi estes tre maldicai, in Italiano, ne diras che vi estes, che i grissino. do, vi povas comensi mangi ili, cai, pri, chio vi, la venonta buon volo, Ahmad. Do, chio vi povas mangi pizzo, per trancillo, cai forco, tiui estes in ordo, vi povas mangi, per trancillo, cai forco, au, la venonta, Ahmad, mi petas a, au, vi povas mangi gin, per la mano, vi trancas gin, per trancillo, cai forco, cai poste, vi mangi as gin, per la mano, ambao maniero, estas in ordo, tutte in ordo, en ciua, in pizzeio, chi uviras, vi povas tion fare, la venonta, mi petas, Ahmad, se coutime, coutime italo, chiam gavas pizzo, ni havas bieron, bieron, cai, ciu, ciu mendas, siam propram bieron, vi diras anche, o la dimensio, della bieron, chiubi volas, la coloro, couto po, la venonta, mi petas, se coutime, cestas, un grande tablo, da gie amicoi, cer pizzeio, estas, mal multe costa loco, in Italia, du, estas, uno de la locoi, chiel, oni ple hofte, iras con amicoi, cer, estas, mal multe costa, ni povas ordoni, mineralan acquon, mineralan acquon, por, coutime, in grandai boteloi, cai, multe da homoi, povas, trinchi, coutime, oni mendas, cungasso, cae, sen gasso, se, por, ciu, estu feliciai, cai, tio, mineralan acquo, vi povas, comence, trinchi, tue, ebel, por la bieru, vi attendu, che ciu, avut, avut, in caso, pri, mangi, mangi, pizzon, la regulo estus, en la pacientezo estus, atendi ciwin, se, nun tempe, oni ple hofte diras, bon volu, comence, cer, ali maniere, gi, jas mal varma, cae, nestus, di al bon, non gusta, tu, oni ne plus, oni povas comence, mangi, antao, antao, ciwi, rizevicin, coutime, oni diras, oni ne simple, comence, oni diras, pardono, che mi comence, in maniera, gi, dic, mal varma, au, l'alire, homo, iam, diros, onel, di bon volu, bon volu, tiom fare, e, la venonta, mi petas, poste, poste, stas dolciasoi, dove stas profiterol, o aliai, profiterol, edes, tipa, tipa dolciada, da nomo, estas franza, saj, estas, tre cutima, in itala, i pizzei, ca, nesas da sola, vi pova scutime lekti inter diversai, diversai dolciasoi, vine ne predevas avi cion, vi povas avi ancao nur pizza, negravas, set io, estas nur pol montri, bin la tuta, sin secfo ebla, en, yu pizzei, ca la venonta, mi petas, do, estas espresso, espresso estas, tipa itala kafo, ne, ca, vi povas avi gin, cum sucero, au sen sucero, cum lacto, au sen lacto, ca, italoi havas gin, ancao post vesper mangio, quelcai, quelcai aliai, popoloi ne, ne havucin, post, post vesper mangio, c'era i dittimus ne dormis, italoi, multe cutima si ecafodo, ec post vesper mangio, estas buone, set post mangio, ni ne havos cappuccino, ti ho estas cafo, cum, cremita lacto, super g, ni ne havos tiom, set, germanoi, chiam indivenas in italia, cuti, ne, multe shanta, savi cappuccino ciam, sa ciasas buon gusto, set, cutime italoi, ca, multe shatas, italoi, multe shatas debati, precie, ciam, oni povas, havi cappuccino, au cafo, ca, 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 puristoi, ec ne volus, iom da lacto, en la cafo, post mangio, post, exempe, post pizzo, e, ca, post la cafo, vi havos, la tiel dirita, cafo mortigiro, ammazza caffè, cafo mortigiro, estas licforo, ti hovitas di Moncello, farita de citronoi, de sud Italia, povasesti anca o aliai, tipa cafo mortigiro, de mia urbo parma in Italia, estas, estas, do, estas bagnolino, estas nocino, farita i de nuxoi, au aliai aferro. To, bene, in i vidi spritizzeio, la venonta mi petas, ac, ma, yes, to, nur por, por pensi, pri ritoi, cio estas ritoi, mcdonalds, la, la rapid manja, e locoi, cio estas ritoi, tie, ovvice, nur povas mangi, kiel vi volas, in kiu hai maniero, kiu vi volas, ca, e, e, estas ritoi, estas ritoi, estas ritoi, unuwe, se vi pensas, pri, kio estas, en iu, en iu, sanduiccio, de, de, mcdonalds, estas en ili, la ferroi, cio cune, la ferroi, cio estus en tipa, rustila, europa mangio, to, estas, estas viando, estas legomoi, estas romaggio, unu post alia, set, in tiucci caso cune. Sed, anca, o estas, alia i ritoi, che oni, on i multi observas, ci uvi, la venonta, bon polo, ah, mad. Do, exemple, ci uvi povas, comporti, ci uvi raitas, comporti al mcdonalds, via tablo tucco, mangi laro, teleroi, cio candeloi, ca la respondo, vedo rindo estas, ne, vi neraitas, ca il vero casis, ca il ca i homoi, iris al mcdonalds, por celebri, sian, nascistat, rebeno, cun, poc'un portante, sian candelo, intedero, incontro poc'ai, ili est, dispetita, i cori, cio, on i neraitas, ti u ne congruas, cun la, cun la loco. Sed, mcdonalds volas, doni ti un montro, che ili est as, a fabla i castiganti, est as amo, por la infano, i nostalgiu, por la pacinto, e ti u, la speciale architekturo. Doni, povas, seria la venonta, venonta, i astanko, dove vidas la, ti u, sas mal nova, restaurazio de mcdonalds, cun, rugia, mansardo. La venonta, mi petas, i un pli nova, cun, bruna mansarda, tecmento. Venonta, mi petas. Ene, vi vidas, di un senso de, est tua fabla, id o, d'ankon, por porti, bien, rubaggio in citi, ecco tu po, venonta, mi petas. Ti u, es as, ci u, i mal nova, cun, ne? Mal nova, mal nova et us. Ca i un pli nova, en, en us sono, ti u, suffice mal sama, cun, cun, sed la, la chialo est as, ci are est as, calca, i, rivaloi, rivalai firmaui, qui, estis, fro, proxime, al, McDonald, e vedevi tutte le cambiere siano aspetti, ma non è molto più che ci cambieremo in Europa, che non mi chiede la prima volta. Il McDonald's in Italia è Milano, e in realtà è tutto il prossimo della Catedrale di Milano, questa è la tre fama galleria, e qui è il McDonald's. Quindi il McDonald's accetta tre bellissime locali, tre turismi locali in Italia. E vi vedete che il McDonald's è vero in Italia. La venuta mi chiede. Quindi è stato il McDonald's contro la Catedrale, e vi vedete chiaramente che è vero, ne ruggia. E ne, mi chiede. E ne, vi vedete che è come studia, dove è tutto bene. E non mi chiede. e non mi chiede. E vi vedete carottoli. Carottoli, se plastica in carottoli. E la idea è che quando il McDonald's cominciò per il hamburger, dove è un piatto, piatto, e poi, non tempo, ciò può mostrare che ci sono 3 giorni per la medica, e che ci avevano 3 idee, per esempio in Europa. la venuta mi chiede. In Italia, vi può mangiare, non solo per mano, i sanduicchi, ma anche per forco, di Nutella, o di salato, che ci sono mangiati che è considerato più sano. Venuta? In realtà, mia studenti donisci al mio dirante che in Cineo è per la McDonald's, ma non c'è il Cineo, mi volevo chiedere a questo, ma non c'è il Cineo. Ma non c'è il Cineo, ma non c'è il Cineo. E' un po' che è usato la Cina lingua, ma non c'è il Cineo, almeno c'è il Cineo. Ma non c'è il Cineo, ma non c'è il Cineo. In Cineo, il Cineo è il Cineo, e il Cineo è il Cineo, e il Cineo è il Cineo. e il Cineo è il Cineo. Ma in Cineo, in Cineo, in Cineo, McDonald's è il prossimo dell'Università, che è più più agile che erano qui. Rona McDonald's del Barbato dell'Italia è molto bella vera. Ed è del Cineo, perdono. Quindi, mi chiedevo. questo tipo di signorina, l'Unicità Margarete Visser, e mi laguita di doire che tutti i seminarii sono partecipare, che arrivano alla Biregina, e che ha già visto, quando si arriva verso il Biregina, e che invece, dove è l'attento di Biregina, quindi anche l'attentato. della nuova commissione di Verina Gado e, tra questo seminario e questo congresso di lei è anche la prelego di Ariadna García Guterres che è una parola che è sempre di Radio Havana è un grande programma di oh, Mireia, McDonaldo, yes questo è un grande programma di Verina Gado anche Mireia è parte di Verina Gado molto da il libro che è un mio genio di tuo signorino di tuo professorino del Canada è che in realtà mangiate che viena di idea di tempo di per fortuna chi ne bisogna di molti strutture codi fortiwici ritoi e, certo facte dovissiasi che in Europa ti voti che esase molte da lingue che il gasto e anche estus host in Francia olt ili fatti aveva la sama radico ili estes la sama e ca ili indicis fremduloi indicis fatti più di indicis relato indicis relato con fremduloi che visitis la hemo ca ili povus esti malamicoi è la base idea di idea che chi deve avere se pensate più ospitalezio e in l'Italia sempre ospitalezio hostilità esti inimici esti malamicoi tutti avevano la sama dedena in europa lingua dove è molto grave che la gasto non usurpa la rola della gasticanto e è anche molto grave che la gasticanto monta molto da buon volo alla gasta e è molto molto da superstizio per la morte di gasto vi potresti pensi per Macbeth pensi la fantomo del banco in Macbeth sed anche la dec tri homo che mangia spune ce la tablo aveva mal buona signifo legata ebile anche all'idea di Cristo con la dec due apostolo e disciplo che uno e li post perfid Christo mortis protio Jesu mortis protio dove in franzio se vi pensas en la dec nave arcento ec estis professio estis homoi che ci vi vespera estis iam trege buone vestite elegante vestite che li simple attendis esti vocate porti vespermangio in tre riccia e domoi por esti la dec quara homo se estis dec tri homo oni le povis havi elegante vesper mangio c'è tre mal buona mal buona mal buon chance a fare se c'è uno homo uno e lili oni diras play ofte la play una o la play mal una mortos jin mi ang li an animati i raul servet E questo è molto interessante, non è un'arpea, che infatti vissi che in la greca mitologia esistono due arpe, che esistono virgine con il corpo dei piedi, e li tormentano uomini. E come li tormentano uomini? Li mal purigono i miei mangiamenti, e anche i mangelari, che sono la mensa in Latina, non sono plati, sono infatti pano su cui si mette i mangiamenti. E li mal purigono i miei mangiamenti, e questa animazione è molto interessante, e infatti tre sciocche, tre sciocche. Io ne penso che sia tre sciocche, perché mi mostro in una classe, perdono, mi mostro in una classe, e infatti mi mostro film per copiarietari, per certi versi che ci prelego in una rete. Ma in classe mi mostro sì. Io non penso che sia stato un film più grande premio per il festival, e questo è stato sciocche per gli uomini. Ah, sì. E questo è vero che vedete questo film, che è stato sbattato da lì a vero, e lì prenazzi il suo uomo. E questo film comincia a mangiare tutto quello che è in suo uomo, tutto è detruita, forlassas la domun, e i rasforaceti iom por mangi, scie al venas che lì comenzas a sbattisci, ed o alia homo venas che la circo ricominzasse in alia senso. Do, con la facto che temas prevedino, che pavos est iom misoginia da tutta ferro, tamen est est iu grande senso, cioè ne che vere la gasto, la gasto ciam hava stiun eblon estri per forta, e la gasto ciam hava stiun eblon estri per forta, e tia est la chialo per chi ogni hava stiun eblon estri per forta, e tia est la chialo per chi ogni hava stiun eblon estri per forta. La venonta mi petas. Yes. Do, esempio est as multe dafero che io est as farita per forprimmi per forta. Exemple, tranciloi. Molte da tranciloi in occidento havas stranca informo, e sa tre rondigitai, e tre malfortigitai. Exemple, fish tranciloi, a butter tranciloi, o fromas tranciloi che havas la supraparto rondigita. E, in cinio, on iam havas trancite mangiagio, cio est as la chialo per chi ogni ne usas, on i ne usas trancilo en la mangiagio, dun la mangio, mangio bastonetto sufficias. Cet io est as por sentigi homo insecure. Aliafero, che ogni faras, exemple in italiu, ogni ne metas sia in mano in sube della tablo. Cio ne, cioè, sube della tablo, ogni povus fari mal buona nafero, dove ogni deva savi la mano in sur la tablo, cio ne la, cumputui ne devus essi sur la tablo, sed la mano in yes. Set, ne ci, exemple, in anglio, tu moni attendas, ogni pova savi sia in mano in sur la, in italiu ne. Venonta mi pedas. E, do, est as facti multi da tabuoi, cio arco diris, ognine povas montri alias visaggio per mangio bastoni, e toi espli, ognine povas per trancilo, au per porco. Cai, ognine metas trancino nel sia bus, potime. Em, 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 diversi landoi havas regulo per i tranciloi, esempio, in franzio, oni potime ne trancas bambulcon, anche o in italiu, oni usas la manoi, por, 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 por dispersegin, in franzio, ognine trancas ter pomone in Germania, ognine usas la forcon per dispersegin. e, ne iam diris, ne iam piccola mangio bastonetto nella riso, e, mangio etichetto, e, e, mangio etichetto, e, se, tut monde, estes calca aferroi, qui estes vere, generale, ed uciam, estes tiu senso de purezzo, de zorgemo, prilaliai, ca la gruppo se, sur, grupa solidarezza. e, do, la benonta mi petas. Do, e, povas esti grande emalsamezzo, e, exemple, ciù vi devas mangiere chi d'un festoi, ciù estas considerata buona ferro mangiere chi d'un festoi, e, e, in qualche culturoi, e, e, sempre a nord Europa, e, ebile, estos pli, vi devus pli, controli di me, ne montri tiel multe che vi volas mangiere, estos considerata troppo grande avvidenza. Ced, e, in sud Europa, se vi ne mangias, multe, e stas buona, mi diciam diras al miei studenti, i studenti noi prezzipe, che se li rius a l'Italia, io ne povos pensi che li resto stiel mal dica. Cia, se itala patrino vidu silin, tilo estasi dia fino, to, ili igios nepre pli ticae. Cioè, li devo mangiare da tutto il tempo. Che chi vi mostre il mio apprezzo? Cioè, ciò vi parlo stiom per le persone di via Buscio, che può essere considerate maldezze in qualche cultura, certe, tre buoni in altre culture. Ciò vi deve essere molto gratuito da qui visto, anche le parole per te. Cioè, può essere che le parole, che mostre che vi non mangiare, che ci forgiamo le parole, ciò vi è stato mangiato, e ciò è stato una più grande laudo. Do, qualche cultura si sostituisce il mio controllo. Silenzio può significare il rispetto al concentrismo. Sì, anche le parole. Si rincontriamo con altri persone, e chi scrive le parole? E sempre, molto dopo, in Cineo, la più haggia persone, è la più parola, e, specialmente, è stato instruito con studenti, e studenti molto ascoltano, e nemmeno molte parole. Cioè, nemmeno, è stato un'attività, come vi debba ascoltare, l'instruito che vi invitano al tuo feste. Quindi, la venuta, ripeto. Quindi, mi dicevi che la silenzio può essere la più grande laudo. Sì, è stato un'attività di un'attività di un'attività di un'attività, di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un espacio. Sì, e qui si rinagdo. Signore a teo è un'attività di il suo explaceutico di Sicilia, in suolo del sud Italia, nomata Montalbano. Cioè lì è detettivo, commissario del polizio e, ec, se gli uomini vengono all'inizio con tre grandi informazioni che si è mangiato, non vogliono quelli di parola. Cioè, vogliono mangiare silenzio. Lì devono mangiare silenzio giù. Lì siategano mangiare. Mangiare per lì è la più mi dirò la più grave affera. Cioè, tiò è stato admirato per gli italiani. Lì è stato perdito e mangiare. Cioè, è stato un grande affero per lì. Ma, venite, mi chiedevo. In nord Europa mi non è stato visto un film La Vespermangio di Babette, La feste di Babette. È stato dal lato di Gabriele Axel. Già è stato più del racconto di Karen Brixen. Cioè, già è stato per la tua Francia verina che è il nostro dana villaggio prossimo dell'Amaro, molto isolato, che ci sono tre religiari, tre cristiani. E si c'è una lotteria, che si decida usare la tutta mona di più grande, tutta grande sumo di più lotteria per fare il feste, per celebre la morte della patria della duverina che castigano che lavorano trasporibili nella doma. Cioè, per la congregazione di persone che considerano la grande religione estera, religione vita. Cioè, veniva il Francia molto molto d'afferro, inclusive del testudo, che all'idea tra gravi, tra molte coste in afferro, tra molte coste in vino, in c'è tutti persone che essi nord europeanui c'è tre religie, ma senta che tiò è esprosto che il sorgistino, che vola sorgi, c'è passigi ilin de dio al satano, cioè ne, c'ar ilin ne alla diablo, c'ar ili tro multe giù ospre la mangio e estos perdite. Do ili comenzas di la comenza di tiò di quest'anno, ili promessa sono l'alìa che ne parola spre la mangio. Il parola spre l'alìa è vero e la vete ero perché se assolutamente ne parola spre la mangio. se se la mangio è buona e l'alìa 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 trè fama che fin del restaurazione in Francia e se si ha il che il è mortigato in un comunismo di Parisi che aveva un più in mondo dopo che viene in la Flanda poi si comprenano molto per la che la mangia sia sia buona, che l'atmosfera sia sia buona, che fin fine ciò ne dicevi parola, che cantano, che hai già dei nove amici, quando avessi visto molti problemi per sé, neanche più esiste in questo gruppo. La venuta mi peta, se spaventano il tuo ruolo di silenzio in Nord Europa, compare con Suda. Do, mangia ticchetto, mangia ticchetto, ne chanjemas, utime mangia ticchetto, essa suffice conservema ferro, essa è conservativa. Se stas chanjui, e tais chanjui, stas grandi chanjui nella cultura. Exemple, se vi, se vi comenzas usi culeron, exemple, vi povas mangi pli varman, varman mangio in compare con tiu, che vi povas mangi per viai manoi. Ed o la affero in cui vi mangius, che la maniera in cui il estes curitoi, estes mal same. E per la tutt mondigio, ne vidas grandi chanjui, grandi chanjui in tiu senso. Granda chanjui, che io estis in Europa, e che io casis ne tielle multe da tempo antaue, estes la individua telero. In fact, in la Franza, in la Franza lingua, oni diras asiet, car estes conectita con la verbo asuar, asuar, che io estes si digi, car vi havas in un dialogo che vi si digiasi. E la unua homo che comenzas usi tiu individui, individua i teleroi, estes versane Franza regio, Franza regio. Do tiu portas all'eddeo de individuismo, car antaue homoi havis comuna teleroi, cai passi silin, che vi debis esti prietentemai, alvia in ai baroi, cune, cai nur viroi havis tranciloin, che li debis tranci per la verino, dovutime ogni mangi spare, dove esis tutta mal sama maniero mangi. Chi ha messi verino? Cia ne c'è verino i pova se esti povis mangi cune con ghiroi, tammen, cioè, è la casa in cui vi li estis. Do, se essa parte è porzioi, non tempo è in Europa, anche un bote da vendeioi, né nur in Europa, anche in Japani, un bote da vendeioi, supermercatoi, supervasaroi, comenzis vendi individuae porzioi. Ciar, multe da famiglioi è sas facte multe uno homo. Do, la venonta mi pentas. So, mangiazoin havas multe, multe, multe da signifui. Unue, la facto di compartigi mangiazoin, caine, estas uno e la ferroi più gara igas ning homoain. Cialcai simioi farà stio, se ne tutte. Do, estas ple multe la homoai. Do, mi supposas che bestoi, anche patroi, dono la mangiazoi alla tutte malgrande infanoi. Estas mal samme con samulloi, cune, samagiai, samajuloi. Tio, estas tre grava polparenza ai sistemoi, che mangias cune. La lingua. Ciar, bisogna debati per chi havi mangiazo, chi havi mangiazo, chi havi dividici, chi havi compartigi. Tecnologio. Ciar, vi devas fare multe daferoi, per cui havi mangi. Moralo. Cio, estas la justa porzio. Venonta mi pentas. Entra le multe signifoi, eccempere in economio, che consumas la mangio, ed è tio benas consumismo. Mi vedo che Ursula e Giuseppe Grattapaglia erano al Brasilo, per fare iom chi unestis, che è la consumisma mondo, per fare iom chi havi grandi valori. Dottio, consumismo, benas consumi, do consumi mangiagio. E in alto, mi vedo qualche esempio, indichilo de classo, cai naziezzo. Do, estas... Mi inur avasti un esempio in la capi, che mi dirò nun. Mi legis in libro di Karle Bistros, che chiam... che estas marsama signifo della... Chiam mangiasui, cominza a sesti in un donio d'oro, come si sesti in un malnovo. E poi, per... Per... Fermentato, per esempio, franzo, per la formaggio, estas tra positiva. Per un anno noi, tio ne. Lì avas tutte alia concepto del formaggio. Cacchiam estis la invato del Normandio, da una due momenti, e tio Levi-Strauss scribas. In fact, molte da... i formaggi fabbrici in Normandio estis bombite da usonano, e ciari ripensi che tia esis cadavro. Pro la... ma il buon odore della... del formaggio, la Uili. Se per franzo, e per italo, in estasi italino, tio odore del formaggio, gorgonzola, au aliai, e saspetta, signo di io tre buon gusta. Do, pava sesti tutta mal sama signifo de tio i mangiagioli. e sas... Relate al tio, sas ancao per il formaggio, sas ancao iu... iu... reclamistu, facte, iu spezialistu pri tre... tre altnivelai barbadoi. iu donas grandan ideon alla... alla firmaui, cui volas barbadi. Kai li havas ideon, che estas tre mal sama codo, pri formaggio, inter la franzoi, kai la... usonanoi. Kai li ne comprenis, chie... homoi ne comprenis, chie la... la barbadoi, pri formaggio, in franzio, ne funcciis, en usono. Kai li comprenis, che facte, por usonanoi, promaggio, estas conectita con morto. Do, protio, en la barbadoi, pri formaggio, en usono, vi, exemple, montros la... la... friduio. Char friduio, estes kiel vi metas a cadavro. Do, fromaggio, estus en etie, kaji estus en... en plastica... en plastica uio. Do, estes tiu... cun ligo, chiun illi havas in sia capo. Ne estas viva ferro. Dun, por italanoi, por franzoi, fromaggio estas viva ferro. To, se vi comprenas tiu in... basa en afferroi, pri mangiaso, vi povas compreni multo, pri chie, homoi pensas, kai anca opri la lingua. To, in occidenta e lingui, panno signifas mangiaso, tre orte, kai multe da vortoi venas de tiu panno. Esempel, companio, estas cun panno, vi compartigas la panno, cun, de la Latina. En moralo, en estetico, gride la, en glute mezzo, gusto, estas ciu in vorto e qui venas de mangiaso. Dove, buon angusto, estas vorto de mangiaso. kai ne vidus, ni ne vidus, mi montro stion in italiu, che, mi daurigo stion, un seminario in italiu, domnetà la congresso de Montecarpini, mi parolos pria, de seppai arzentola, inconduco, de coche, pardon, de seppai arzentola, inconduco della porco, cotopo, e giusto, in tiu momento, ogni comenzas paroligri, bon gut, maniero sin conduti, maniero vesti, sin vesti, esas, ne nur mangio, sed mangio portas, io alia, pri la, condutu de homen, kai, per de draiden, tiu, venas alla angla, kai, dupo, do, bon volo la venonta, mi petas, tiu, vi povas montri nu rapide. Eblebi, ciui conestim, tre famam pentraso di Archimboldo, parita, no factela, in venonta iaro la, la, Universala congresso, estusen cehi, che a Archimboldo, estis italianos, agli labori, sen cehi, o, la, la, ce furbo della, imperio, esistie, agli labori, spornare in periestro, che vi vidas, un homo, farita de, legomo, infatti, simbolo del sezono. Venonta, mi petas. Siam de Archimboldo, tiu, estas legomo ben disto, sed se vi, turnas, ingestas anche, cia, sempre la legomoi. Venonta? Venonta, mi petas? Tama pentraso di Caravaggio, della, Iuna Caravaggio, itala ben tristo, tui posta rinassanzo. Venonta, mi petas? e la muta naturo, eh, tiu, mi petas, stile bene nella, en la Germana, in Italia, ne diras natura morta, do monta, mortinta naturo. Cia, mia patrina, esist, tre felicia, che in Esperanto, ne diras, muta naturo, cia, 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 chiena stas mortas, ci parola, cia, cia, tiu, estes, tipa pentraso della flamengo, della meberlandano, dicem, C'è un microscopio, molti stili per l'optico, dove c'è molti risultati per la dettaglia che mangiare, perché è vero che potrebbero risultati per la dettaglia. Venuta, ripetiamo. C'è un'altra parola per birina gado, mi devo dire che ciò che ogni molte parole per mangiare, 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 mangiare. C'è un'altra parola per la dettaglia, perché è una parola per cui ciò che può essere raggiare. Anche poi c'è anche i fabioli. Mi parloci a citare i fabioli, ma in Italia parloci a fabioli dei sottotitoli, con l'etichetta, con l'etichetta, in particolare per mangiare, e molti delle persone che si rivolgono a fabioli in Francia sono fatti veri. e che le fabelui sono conti fe in Francia, ferite in Anglia, c'è sempre più feina, e feina sono pova e pova i veri. La venonta, ripeto, la pova dei veri è montri mangi-etichetto, o etichetto, i condutti. La venonta, Andy Warhol, parola per il consumismo, che è il pop art di Andy Warhol, la fama supo, Campbell, che è un esempio in cui il art, essendo il consumismo, che si può essere vendata in grande quanto, ma può essere anche critica per il consumismo, specifiche per l'uso del consumismo. La venonta, mi petas. Tio, ci sono alcune domande prediscutate, se io voglio fare ili, rispondere al ili non, se io voglio, se io voglio. Tio, ci sono alcune domande che io continuo fare il latino di lezione in Cineo. C'è, io, ribercita, io in Cineo è vero per Cina, e tra molte piccina cultura. Sed, in tutti i casi, vi povas pensi, che io mi povas mangi, anta o ec mangi. Che in pizzeio, io mi mangiass grissini, anta o l'ec mangi pizza. Io non i povas fare. Mi diri, salvia in Cineo, dunque in Cineo, io mi povas mangi. Do, in fact, vi povas mangi bombonui, semoin, sed, anche o nodeloi. Almeno, in Yunnan esistil, vi povas mangi nodeloi. Cio est asculti ma sin secco. Cio est asculti ma sin secco. En Shandong, en Zaujuan, esas tre grave, che vi mangiass. Esas vere tre ceremonie, che diras l'uffiziale mangio. e, cio diris arco, tre gravas, che vi sida, e la cefagastu ciamestas contra la porto. La cefagastu, perdono, la gastiganto, esas contra la porto, la unua gastiganto. La duagastiganto, esas contra la unua gastiganto. La cefagastu, esas dextre della cefagastiganto, duagastu maldextre. Cotopo, cotopo. Cio estas sin secco de tostoi. Do la cefagastiganto, tostas tre foie. La duagastiganto, tostas tre foie. Poste, lagastui devus tosti. Se idini comprenastui, aliei homoi faros, eventuale lagastui, ancaudevas tosti. Cio ne devas paroli au silenti. Cio ne devas paroli au silenti. Cio estas alia aferro, dipende smutte de culturo. Cio mostras apprezzon, au zorghemu. Cio exemple estas bone, doni mangiagio in de la comuna, de comuna plado alla plado de via, de via Neibaro. en la cinio, en la pacientezo, tio montris tre grande alfablezio. Sed, i unai cinioi, cio poi e nesciatas tion, ca ne estas felicei, cio am lagepatrui faras tion. Car, ili pensas che estas, estas troigo, estas troigo, dove ili nesciatus, che lagepatrui faro tion. Cio estas tabuoi. Ecco, i paroli s'prichelca, esone. Cio la cronvirusso s'angis via incutimui. Cio mangetichetto, ligiges al timo, de perforto. Eble ne in ciui culturoi, ne sias. Zarte, tivi ligitei in d'Europa e lingui, havast un ideon che gasto, cae gastiganto, facte estas rilato, cio rilatas al fremdulo, cio estas potenziala nemico, cio venas, malamico, cio venas al via dom. Tio, estas interesa rilato tie. Cio vi povas pensi pri mangiasoi in arto in via cultura. Estas calca artistoi cio ijas anca o etnai culturoi parto de arto. mi pensas exemple pli Ulrich Ottinger, cio estas fama filmistino de Germania, cio anca o faras exposizioi de flotantai mangiagi, cio estas etnai mangiagi, basita su ciai antropologiai studoi, cerci esti studentino de Levi-Strauss in Paris. i i i i i